Buongiorno, allora la situazione attuale è questa, cioè noi ormai viviamo così, lui imbraccia me e io che giro per casa e faccio le cose. Allora, oggi è martedì 24, scusate se è dondolo ma se no mi si sveglia, vabbè cerco di stare un po' ferma. Allora, oggi è martedì 24, ieri era lunedì 23, era il compleanno di Alessandro, infatti se andate su Instagram potete vedere un po' le foto che abbiamo fatto. E poi ha nevicato, quindi le scuole sono chiuse, sono chiuse anche oggi e ieri i bimbi sono stati un po' di sotto, infatti su Instagram ho messo anche quelle. Eccolo qua, quello che ieri ha fatto otto anni. Eh sì! Eh sì, sono grande, sono enorme, sono vabbè comunque, niente, abbiamo fatto, io ho fatto la torta perché praticamente non, diciamo che devo stare un po' attenta con lui perché abbiamo avuto un po' di problemini, pure grossi abbastanza, abbiamo avuto la bronchiolite, però diciamo che adesso non ve ne parlo, ve ne parlo dopo quando magari sta un pochino più tranquillo perché adesso già si sta agitando, è vero Adri e niente, quindi dopo semmai ve ne parlo e oggi li siamo tutti a casa, quindi niente, vi beccate questo vlog e dopo giuro, giuro, giuro che vi spiego perché siamo mancati così tanti giorni. Allora, eccoci qua, approfitto di questo momento che ho il figlio, ho Adriano che sta dormendo fortunatamente, diciamo che fatica un pochetto, eh lui rispetto ai fratelli fatica un pochetto addormentasse, ma probabilmente perché all'ospedale stava tanto attaccato a me sia quando, sia quando praticamente l'ho partorito sia adesso che siamo ritornati dall'ospedale perché, ebbene sì, siamo stati ben più di 15 giorni in ospedale, mi pare più o meno 18 giorni, tra una cosa e un'altra, per bronchiolite. Allora, io non so se avete sentito, ultimamente ci sono stati tanti casi di bronchiolite, di problemi respiratori nei bambini che sono finiti all'ospedale, infatti i reparti di pediatria di quasi tutti gli ospedali sono, cioè, una cosa assurda. Noi eravamo uno di quei casi che stavano all'ospedale per bronchiolite. Allora, non vi sto qui a raccontare, eh, diciamo, le cose precisissime, ecco, perché non, è stato un periodo parecchio brutto per noi, eh, vi dico solamente che noi abbiamo passato Natale tranquillamente a casa, tranne il 25, eh, poi siamo stati a, siamo stati a casa, cioè, non ci siamo mossi, non siamo andati da nessuna parte, e, eh, il, abbiamo fatto capodanno, quindi il 31 l'abbiamo fatto a casa, eh, il primo eravamo a casa nostra, il primo notte, eh, decidiamo di portare Adriano all'ospedale, eh, perché, eh, non stava bene, non stava bene, eh, mangiava pochissimo, quasi niente, era pallido, eh, dormiva tantissimo, cioè, era proprio... non era più lui, ecco, non era più lui. Allora, cosa abbiamo fatto? Eh, ho detto a mio marito alle due di notte di portarlo in ospedale, quando è arrivato all'ospedale la situazione era molto grave, eh, non sto qui a dirvi particolari, perché, cioè, vi dico solo che mio marito stava per mettersi a piangere in ospedale per la gravità della situazione, diciamo che siamo riusciti a, eh, ad arrivare giusto, giusto in tempo, perché la pediatra gli ha detto che se fossimo arrivati anche il giorno dopo la situazione non sarebbe stata assolutamente quella. Che cosa è successo? Praticamente, eh, Adriano aveva bisogno di ossigeno, eh, mh, perché praticamente era in insufficienza respiratoria, dovuta proprio a questa bronchiolite, eh, da VRS, eh, quindi, dato che l'ospedale, eh, in cui era andato mio marito, praticamente non aveva, eh, la terapia intensiva neonatale, ci hanno trasferito a Perugia. Noi siamo stati, dal giorno del mio compleanno, perché praticamente, poi, che è, poi, logicamente, eh, il bambino è stato trasportato in ambulanza, mio marito è tornato a casa, abbiamo lasciato gli altri figli alle cinque della mattina da mia suocera con bagagli presi, uh, scusate, ok, con bagagli presi in fretta e furia, eh, con bagagli presi in fretta e furia, poi, perché alle quattro di notte capite bene che è una cosa, cioè, io non ho dormito, in più dovevo preparare la roba loro, perché comunque dovevano andare a scuola, cioè, non sapevamo quando, cioè, no, non dovevano andare a scuola, però, eh, sapendo che avrebbero dovuto metterlo in, eh, sotto ossigeno, diciamo, sapevamo che non era una cosa, eh, velocissima di pochi giorni, quindi ho dovuto portargli comunque pure tutti i libri, eh, per la scuola, per fargli finire i compiti di scuola, e, quindi, preparargli le, i due, tre paia di vestiti, perché, cioè, non sapevo proprio, preparargli tutto quanto, insomma, alla fine li portiamo da mia suocera e noi partiamo per Perugia. Allora, arriviamo a Perugia alle 8 di mattina, ragazzi, una scena, cioè, che io non, non, cioè, non auguro a nessuno, a nessuno, a nessun genitore di avere, perché l'immagine, eh, di, eh, mio figlio, di neanche 20 giorni con, eh, la maschera dell'ossigeno, eh, che respirava con la maschera dell'ossigeno e basta, perché se gliela avevavi non riusciva a respirare la saturazione e scendeva, vi assicuro che è stata una scena che io non ho neanche fatto una foto. Io, finché mio figlio è stato in terapia intensiva con l'ossigeno e anche dopo, quando ci hanno trasferiti in pediatria, che ancora era in una situazione non, non perfetta, io non ho fatto neanche una foto, non me la sono sentita, non me la sono sentita, perché non, uno, perché è una cosa che, cioè, non, non, non volevo ricordarmelo, non volevo ricordarmi questo periodo e quindi ho deciso di non fare neanche una foto. Infatti non ho mandato foto a nessuno, c'è stata la mia amica che me l'ha chiesta, gli ho detto, guarda, non ce la faccio a mandarti la foto, perché poi comunque mi rimane a me nel telefono, non voglio vederla. I miei figli, che nel frattempo stavano da mia suocera, mi chiedevano di mandargli una foto del fratello, e io assolutamente no, cioè, non volevo che vedessero il fratello di 20 giorni in quella situazione. E quindi, eccolo, si è svegliato, io ve l'ho detto ragazzi, c'è un attimo di tempo. E, niente, quindi praticamente siamo stati in terapia intensiva neonatale per tre giorni. Io penso che oltre al reparto di oncologia, ciao Speck, io penso che oltre al reparto di oncologia, il reparto di terapia intensiva neonatale è un altro di quei reparti in cui non vorresti mai mettere piede, perché vedere, a parte i bambini prematuri, piccolissimi, ma poi vedere questi altri bambini, perché non c'eravamo solo noi, ce n'erano altri, altri bambini che avevano lo stesso problema di mio figlio, cioè, attaccati all'ossigeno, è stata, cioè, io ho avuto delle crisi profonde in quei giorni, profondissime, cioè, piangevo, e mi sentivo, cioè, mi sentivo proprio che non potevo fare niente, guardavo quel cavolo di monitor con i numeri della saturazione, guardavo quei numeri e dicevo, salite, cioè, dovete salire, dovete assolutamente salire, perché io voglio che guarisca. Fortunatamente, rispetto ad altri bambini che poi abbiamo conosciuto anche in pediatria, lui ha avuto solo il VRS, perché praticamente c'erano altri bambini che hanno preso anche altri virus, bambini, ad esempio un bambino che era stato ricoverato addirittura tre volte per diversi virus, quindi la situazione è stata parecchio grave, ma non dico per noi solamente, io dico in generale, in generale è stata un'epidemia, cioè, veramente un'epidemia grave, gravissima a mio parere, perché ha colpito bambini appena nati a ragazzi, perché c'erano anche dei ragazzi all'interno del reparto di pediatria, logicamente. Io sono stati circa 20 giorni di stress puro, dove io e Samuele eravamo a Perugia, i bambini sono stati praticamente qua a casa con mia suocera, sballottati a destra e a sinistra, che mi chiamavano per i compiti, ci chiamavano per i compiti, io glieli correggevo, nel frattempo ci dovevamo occupare di Adriano, fortunatamente mio marito stava lì con me, quindi ci siamo potuti dare i cambi per la notte, perché in pediatria si rimane anche la notte ragazzi, cioè non è che uno può lasciar fio così, cioè stai lì pure la notte e di notte se sa che uno non dorme. Quindi mettici la stanchezza, lo stress, insomma, io ero arrivata a un punto che ho passato gli ultimi due giorni, perché poi mio marito logicamente ha dovuto andare via, perché ha dovuto sistemare casa, nel momento in cui ci hanno detto che la situazione stava migliorando enormemente, ho mandato mio marito a casa, ho mandato mio marito a casa perché gli ho detto di assolutamente di andare, dai figli, perché ne avevano bisogno anche loro, stavano cominciando ad accusare questa situazione un po' pesante, di sistemare casa assolutamente, perché non potevamo rischiare che Adriano tornasse a casa e prendesse qualcos'altro, di conseguenza mio marito è tornato, io sono rimasta lì da sola e vi assicuro, ci sono rimasta fortunatamente solamente due giorni, ma vi assicuro che sono stati due giorni pesantissimi, pur sapendo che mio figlio stava migliorando, cioè a giorni saremmo tornati a casa, però sono stati due giorni più pesanti, dove ho capito enormemente quei genitori che passano veramente tanti mesi dentro l'ospedale con il figlio sperando che guarisca, e devo dire la verità, questa situazione che ci è capitata, come è capitata a noi è capitata a tanti altri genitori, e io l'ho conosciuto un po', ci siamo conosciuti, con alcuni ancora ci sentiamo ogni tanto, ci siamo scambiati gli Instagram, insomma tutte queste cose qua, per tenersi in contatto, però vi assicuro che non è una cosa che si può capire se non ci passi, questa veramente non si può capire, è come quando ti muore un familiare, cioè sapere che tuo figlio sta a ricoverare, cioè ricoverare tuo figlio in ospedale, e stare lì con lui, e aspettare che guarisca, non può capirlo nessuno se non chi c'è passato, in questo periodo purtroppo ci stanno passando tante persone, tante, e devo dire la verità, non lo auguro a nessuno, neanche al peggior nemico, è una situazione veramente brutta, è stata una situazione bruttissima, a me, cioè io ancora sono abbastanza sconvolta, il mio marito che per quanto è, cioè è un uomo di 45 anni, cioè l'ha passate tante, però anche lui ha accusato a una certa, a una certa l'ho proprio visto che ha accusato tantissimo, si è preoccupato tantissimo, e tuttora siamo abbastanza in allerta, perché? Perché la situazione comunque non è terminata, cioè nel senso noi siamo usciti dall'ospedale, ma non è che è finita qua ragazzi, cioè noi siamo usciti dall'ospedale con la pediatra che ci ha detto, allora lui fortunatamente non deve continuare nessuna terapia di aria, o solo altro, deve fare solamente lavaggi, però la pediatra ci ha detto, cercate di tornare a una vita normale, ma state molto attenti, perché? Perché ancora non è finita la situazione influenza, robe varie, per cui avendoci fratelli che vanno a scuola, se i fratelli prendono qualcosa e non intervenite preventivamente, quindi facendo in modo che non gli attacchino niente, questo è il succo, se Adriano prende qualcosa, stavolta non è, anche se la prende, cioè anche se ce ne accorgiamo subito, comunque va diretto in ospedale di nuovo con l'ossigeno. Quindi che cosa stiamo facendo noi? Fondamentalmente stiamo vivendo il più possibile, almeno io con Adriano viviamo particolarmente a casa, i bambini vanno a scuola, cioè come è giusto che sia, fanno le loro cose come è giusto che sia, perché non posso privare gli altri miei figli della loro vita, assolutamente no, gli dico però di stare attenti, nel senso se si trovano in una condizione dove ci sono bambini che hanno raffreddore, tosse, eccetera, di starli un po' lontano. A me dispiace, perché mi dispiace, però io devo prevenire la salute dei miei figli, visto che ci sono comunque genitori che mandano i figli a scuola con il raffreddore perché non possono fare a meno, perché non hanno possibilità di farli tenere o di farli restare a casa fino a che gli passa questo benedetto raffreddore e ridaglie o questa benedetta tosse. Visto che ci sono genitori che non possono fare questa cosa, allora... Ok. Ragazzi, siete un po' storti, ma io non so che faccia, oggi sto coso non ragiona. Quindi, visto che ci sono genitori che dicevano che non possono permettersi di far stare il figlio a casa o comunque non hanno un aiuto per poterlo fare quando magari hanno raffreddore e tosse, a me dispiace, ma sono diventata un po' egoista in questo. Io devo pensare alla salute dei miei figli e quindi a malincuore gli dico di stargli un po' lontano. Anche se sono amici proprio che ci vogliono giocare, vogliono starci insieme, eccetera. A me dispiace, però non posso rischiare la vita di mio figlio perché gli altri non... cioè, io quando i figli stanno male li tengo a casa, cioè, non riesco a capire perché gli altri non possano farlo ugualmente. Comunque, questa è un po' una cosa che va oltre. Volevo raccontarvi questa cosa proprio perché mi sembra giusto raccontarvela e farvi capire che non si scherza con queste cose per farvi capire che il motivo per cui non sono ritornata subito a fare video perché non ci sono stata. Condimentalmente non ci sono stata. Il mio 37esimo compleanno è stato il più brutto che ho potuto passare. Fortunatamente mio figlio Alessandro è riuscito a festeggiare il suo compleanno perché anche quello era un pensiero che avevo. Non ha potuto passarlo come avrebbe voluto lui, cioè, con i suoi amici qui a casa a fare la festicciola come facciamo tutti gli anni proprio perché non posso far venire persone. Non posso far prendere in braccio mio figlio se le persone vogliono prendere in braccio mio figlio devono assolutamente igienizzarsi le mani, lavarsi le mani e se anche hanno avuto un po' come il covid cioè, se hanno avuto persone o hanno persone che non stanno bene o hanno anche solo un naso che cola non posso farli avvicinare assolutamente a maggior ragione in giro. Se esco, esco con lui in orari in cui so che non c'è tanto casino. Volevo andare a fare i saldi da Primark ma assolutamente non ce lo porterò. Ora vedrò di organizzarmi con gli altri due per andare solo io un fine settimana un sabato o una domenica ora vediamo e Samuele rimane qua con Adriano. Non voglio assolutamente portarlo in luoghi chiusi dove c'è tanta gente a massa di gente rischiare nuovamente. Quindi questa è la situazione in cui ci troviamo in questo momento noi è una situazione un po' pesante però diciamo che ce la facciamo ce la facciamo andare bene e niente quindi adesso dopo che ho sistemato tutta casa eccetera vado a cercare di capire cosa fare per pranzo. Allora mi vedete con gli occhiali diversi perché è successa un'altra un'altra l'ho fatta un'altra delle mie praticamente io avevo prima questi anche nella clip di prima avete visto questi qui che li ho fatti apposta perché volevo levarmi queste montature grosse diciamo nere così e ho fatto appunto questi occhiali che sono di prada mi sono costati pure una massa dei soldi perché ho dovuto fare la lente finissima perché io sono cieca. Beh ragazzi durante questi giorni in ospedale io non mi sono accorta praticamente guardate l'asta questa sta qui è completamente da sistemare perché è tutta esterna spostata in esterno e quindi mi cascano in continuazione gli occhiali non capivo perché mi cascassero gli occhiali in continuazione beh adesso mi sono accorta il perché e quindi niente sono ritornata ai miei vecchi occhiali neri che non so a sto punto se mi siano bene o male non l'ho mai capito però ecco questo e poi mi vedete con i capelli fatti con la piega diciamo liscia ieri erano piastrati quindi mi stavano meglio perché riesco a tenerli più sotto controllo allora diciamo che durante i giorni di ospedale mi si sono rovinati tantissimo i capelli tantissimo sotto qui avevo i rasta ma i rasta veri cioè proprio a torciglioni che non vi dico quando sono tornata per strigarli che cosa ho penato e poi mi sono accorta facendo la piega e facendo la piastra che le punte fanno pietà e misericordia questo vuol dire che i miei capelli hanno bisogno di un taglio ora sto temporeggiando per tagliarli per due motivi principalmente un motivo è che se li taglio in questo momento non li taglio così cioè nel senso non levo solamente le punte ma vado a tagliare completamente tutto perché con un bambino piccolo comincia a essere un po' un problema tenere i capelli lunghi perché si attacca e poi li vanno addosso quando me lo metto in braccio quindi un po' macello li dovrei tenere sempre legati ma cioè i capelli legati si rovinano e quindi sempre legati si rovinano e quindi cerco di non legarli però è complicato poi io ce n'ho tantissimi ce l'ho ricci e veramente è complicato quindi ecco il motivo per cui ho fatto la piega quindi se vado dal parrucchiere in questo momento o li taglio completamente nel senso li faccio corti 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 come ce li avevo già ai tempi che tra parentesi a Samoa le piacciono pure tanto perché mi scoprono il collo a lui piace tantissimo il taglio che avevo fatto ai tempi però o li taglio completamente oppure dal parrucchiere in ce vado però qualcosa devo fare ai miei capelli perché sempre quando sono tornata gli specchi ragazzi non mentono mai mi sono guardata sono piena di capelli bianchi e questo mi ha fatto pensare che io non faccio una tinta seria da praticamente da marzo quindi diciamo che è quasi un anno che non faccio una tinta seria e si comincia a essere un problema per i miei capelli che stanno uscendo più capelli bianchi del solito ci stiamo avvicinando ai 40 quindi si può stare quindi devo assolutamente farmi una tinta ora le opzioni sono due anche qui o vado dal parrucchiere a fare la tinta e gli dico di farmi solo la tinta oppure me la faccio a casa da sola e aspetto di andare dal parrucchiere perché io me conosco io lo so che se vado dal parrucchiere adesso e mi dice dobbiamo sistemare le punte io gli dico dettagli ogni cosa perché non non ce la faccio non ce la faccio allora faccio così mi faccio la tinta da sola a casa così cerco anche di levare questo rosso perché ragazzi io ho praticamente due colori in testa io non so se voi lo vedete ma io ho due colori in testa ho il rosso da qui in giù e qua sopra sono scura del mio castano e in più ho i capelli bianchi ho un po' di capelli singoli e un po' di ricrescitina proprio proprio ricrescita la ricrescita quella seria devo assolutamente farmi sta tinta assolutamente poi queste punte le sento proprio che so secche da qui praticamente io dovrei prendere e tagliare questa parte quindi mi verrebbero i capelli lisci fino qua ok lisci fino qua ricci sono più su però capace pure che mi prende lo schiribizzo e me li faccio da sola che prendo e gli dico a Samuele taglia e lui taglia quindi vabbè niente queste sono cose mie sono pensieri miei a random che però ogni tanto devo tirare fuori perché io ragiono così ragazzi quando faccio i ragionamenti i ragionamenti io li faccio in questo modo mi metto e dico allora dovrei fare questo però in realtà non sono molto convinta quindi posso fare vado proprio al loop e poi alla fine arriva la conclusione quindi la conclusione di questo enorme discorso è che mi farò la tinta a casa il prima possibile e mi farò spuntare i capelli da mio marito poi se vengono bene bene se vengono male andrò a dar parrucchiere e va bene allora per pranzo per pranzo facciamo le poké ho già preparato il riso al microonde allora qui abbiamo il riso al microonde appena fatto sto aspettando che si fredda un pochino e poi ci aggiungo un po' di ingredienti vi faccio vedere il risultato finale dopo mi sta chiamando Samuele oggi per pranzo pochè allora ho fatto quattro pochè differenti questa è di Alessandro tonno e fagioli questa è la mia tonno cipolla fritta fagioli sesamo salsa di soia questa è di mio marito tonno olive fagioli salsa di soia e sesamo questa è di aurora tonno cipollina fritta e salsa di soia e questo è il nostro pranzo ora pranziamo finalmente perché sono le due passate e niente pranziamo buon appetito a tutti e lì c'è Adriano nella nella cosa che sto cercando di farlo addormentare ma non ci riesco allora come potete vedere questo è un ordine che mi è arrivato adesso che ho fatto da Patpat che è questo sito qui trovate anche l'app e ho preso delle cose per Adriano perché questo sito praticamente ha solamente cose per bambini però non ve lo faccio vedere adesso ve lo farò vedere nel prossimo video perché ancora devo guardarle ho solamente tirato fuori le cose però a primo acchitto penso che siano molto molto carine ho preso tutte taglie più grandi per la primavera estate quindi non vedrete cose piccolissime ma cose un pochino più grandi e niente è arrivato oggi vediamo un po' ora sbircio e poi vi dico allora vi dico che a primo acchitto mi sembrano leggermente meglio di Shane anche se ovviamente si tratta sempre di roba cinese comunque adesso ora vi ho dato uno sguardo così un pochino le guarderò un po' meglio e poi nel prossimo video ve ne parlerò allora ora è il momento Netflix ho ripreso che ti ridi tu ah stai a ridere per conto tuo niente 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 vai continuo allora è il momento Netflix aspettate rifaccio pausa allora è il momento Netflix mi sono rimessa a vedere Marefuori solamente perché il 15 di febbraio ritorna Marefuori che bello e prima di Marefuori ho visto aspettate facciamo back prima di Marefuori ho visto no questo non l'avevo visto ho visto oddio ho visto cosa come si chiama mannaggia Emily in Paris allora prima di di Marefuori ho visto Emily in Paris e ho visto Harry e Megan allora prima di rimettermi a vedere Marefuori ho visto il diciamo il documentario se vogliamo chiamarlo così di Harry e Megan allora l'ho voluto vedere un po' perché sono amante di Harry in generale come come personaggio perché sinceramente tutte le cose che fanno all'interno della della coppia della famiglia eccetera non era mai trapelato sono sempre trapelate le cose comunque pubbliche ecco a me tra William e Harry è sempre piaciuto Harry ho un debole per i rossi ho un debole per chi ha i tratti con i capelli rossi eccetera sia nei maschi che nelle femmine mi piacciono tantissimo ma proprio quel rosso rosso naturale arancione ecco proprio quello lì a carota quello mi piace e sono sempre stata più amante di Harry rispetto a William quindi quando mi sono ritrovata questo documentario che hanno fatto l'ho voluto vedere allora non mi esprimo tantissimo perché è una secondo me è una questione soggettiva e la verità la sanno solamente loro però devo dire che tante cose che io pensavo di Diana sono uscite in questo documentario e penso che ci sia un po' di verità di quello che hanno detto penso che veramente ci sia una sorta di lobby passatemi il termine che detta un po' delle regole un po' di leggi lì dentro però sono contenta che si siano allontanati questo sì dopo ho visto Emily in Paris Emily in Paris ho visto l'ultima stagione perché le altre due le avevo viste mi è piaciuto tanto ma lui è data diretta ma dai ma tu guarda allora dopo allora adesso fammi finire un attimo così almeno vediamo se qualcuno ha visto le cose perché lui vede tutte cose sui vichinghi su queste cose tutte strane tipo Manifest qual era quell'altro che hai visto ultimamente ha visto pure un film che è un pezzetto Ragnarok cioè ha visto pure un film ultimamente che l'ho visto un pezzo anch'io me sa ieri l'hai visto l'altro ieri che uno andava in una spa veniva clonato e uscivano praticamente usciva lui e il clone cioè guarda tutte queste cose strane è carino si vabbè comunque dicevo ho visto Emily in Paris e l'avevo già visti le altre stagioni allora dicevamo dopo l'ennesima sì dai saluta fai ciao 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 allora per dopo l'ennesimo l'ennesimo ce la fai a chiudere no ti sto a sentire che vuoi dire è curioso c'è una posta per noi comunque e che è non lo so comunque ciao ciao ok dopo l'ennesimo tentativo di fermarmi in questa spiegazione vi volevo dire che ho visto Emily in Paris allora l'avevo già visto avevo già visto le vecchie le vecchie stagioni mi mancava solo l'ultima che è uscita devo dire che a differenza delle precedenti mi piace tantissimo l'aspetto estetico l'aspetto stilistico nel senso che stavolta sono stati molto 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 più attenti per quanto riguarda l'abbigliamento per quanto riguarda avere diciamo una circolarità su come si presenta Emily all'interno delle film e mi ha ricordato tantissimo la circolarità dei dei look nel film di Sex and the City nel primo Sex and the City che c'è una circolarità che riprende tantissimo la serie quindi mi è piaciuto molto ovviamente il l'argomento insomma la storia in sé non è tutta questa cosa super super impegnata è abbastanza cioè è abbastanza superficiale però è molto molto carino cioè se uno volesse vedere una cosa così per riposare la testa è ottimo invece adesso voglio rivedermi le puntate di Marefuori vecchie proprio perché il 15 di febbraio esce la nuova serie oddio non vedo l'ora non vedo l'ora anche perché io sono un'amante spiegatata di Edoardo quindi non vedo l'ora che c'è voglio vedere che fine fa questa cosa questa storia benedetta di Edoardo e sono un'amante di Silvia che è la Clotilde Sposito che è la e si è svegliato Adriano ovviamente quando uno vuole fare qualcosa si mette seduto 5 secondi si sveglia e viva va bene niente quindi adesso lo prendo lo metto in collo e mi guardo le puntate di Marefuorivecchie